Ciao a tutti, sono Silvia Mezzanotte e sono felicissima di potervi comunicare che la The Vocal Academy ha aperto una nuova affiliazione ad Ancona attraverso una qualificatissima insegnante che si chiama Enrichetta Coli, che è anche una mia carissima amica, che ha adottato la nostra metodologia che potrà applicare alla DRH di Ancona. Perciò vi aspettiamo veramente in tanti perché ci sarà la possibilità di studiare con una metodologia assolutamente efficace e divertente che può portarvi ad avere ottimi risultati in breve tempo. Un abbraccio a presto, ciao!